un grido di allarme sullo stato del nostro pianeta che prende forma con una grande installazione collocata sui resti della basilica giulia nel foro romano un modo per sensibilizzare attraverso l'arte il grande pubblico sui temi ambientali e sui pericoli che corre il nostro mondo e help the ocean l'opera dell'artista maria cristina finucci quello che ho messo in questi gabbioni che formano la parola help sono milioni di tappi di plastica che non considero spazzatura perché in effetti ognuno di essi è stato riciclato da persone che poi lo hanno portato all'università roma 3 per poter fare quest'opera e quindi simboleggiano l'unione che fa la forza tutti insieme ce la possiamo fare se ci uniamo e adottiamo un comportamento virtuoso l'opera è realizzata con il supporto della fondazione bracco e potrà essere ammirata dal 9 giugno al 29 luglio questo è proprio un contatto fra antico e moderno perché diciamo se è vero che l'ipotesi può essere quella di un ritrovamento archeologico molto più avanti quando quindi già alla razza umana probabilmente sarà estinta e questo è proprio una contaminazione fra modernissimo epoca della plastica e antico che sono questi fori vi tengo che sia una campagna importante legata alla salvaguardia dei mari e degli oceani e dell'ambiente perché proprio questo parco rappresenta il connubio più esemplare tra natura paesaggio cultura arte e storia